a bella nezio buonasera non sai chi sembri? chi sembro? come si chiama quello dei bugietti? lion? esatto grazie fratello sorello sei veramente veramente molto gentile allora frate praticamente sai dove sono da mangiare ieri sera? dimmi dove fratello? all'antica cerniera all'antica cerniera? eh che dov'è? all'antica ceppa del c***o buonasera buonasera saluta Antonio io dove sei fratello? di Roma vaffan***o bella fratello ciao bro ciao bro che stai in discoteca? no sto a casa dopo andiamo a ballare dopo andiamo a ballare dopo ah ok meno male senti io ti devo chiedere il consenso per metterti su youtube va benissimo? vabbè bro fai quello che ti fai grazie grazie buonasera buongiorno buonasera buone vaffan***o riccardo? fra un po' più vicino che non ti vedo? ok che carino posso mettersi su youtube? vai qua luigi ciao bello sei diretti ma posso mettersi su youtube? si luciano come mai tutto apposto tutto apposto meno male un funerale ah un funerale con dolianze a me di buonasera 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 come stai? posso metterci su youtube? buonasera grazie fratello questo è bello salve ciao è ingrandito perchè c'è un obiettivo troppo grande non è l'unica cosa di grande in questa stanza posso metterci su youtube? ok attenzione vincita vincita un saluto un saluto un saluto quanta gente stupida che c'è su questo hazard eh si un botto di gente stupillissimo è pure te sei il decimo confrontato grazie buonasera dove sei? di roma pensavo calabrese no calabrese non so calabrese io no no i bestemmio no per favore posso metterci su youtube? sono 3 si si può vendere il gameplay di master grande evviva ostia fratello com'è bro? tutto apposto fratello io non mi faccio vedere quattro motivi bro ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa che non posso apparire perfetto signori ragazzi si perfetto signori ragazzi perfetto signori se vi è piaciuto mi raccomando lasciate like iscrivetevi al canale mi raccomando quei denti giallissimi che c'è che vi faccio l'obiettivo che poi ne ha fatto un vaffa però comunque va fa niente ragazzi io vi saluto Luke vi saluto ci vediamo al prossimo video a gente